La città di Firenze ha la centrale operativa del 118 ed ha tutto il volontariato, come i grandi navigatori fiorentini che dal volgere del XV secolo con i loro equipaggi misero a repentaglio la vita, divulgando poi la consapevolezza che oltre l'orizzonte esisteva il mondus novus, improvvisamente in preda alla forza della natura, senza una rotta certa, avete raccolto le grida di un popolo, vincendo con uno sforzo congiunto paure e fatiche per accompagnare Firenze verso il nuovo mondo. Terra! Nelle mani di Marco Andreoni, in rappresentanza di tutti i volontari della protezione civile, donne e uomini che con dedizione e competenza hanno prontamente risposto alle molteplici criticità generate dalla pandemia e dal lockdown. Grazie a tutta la protezione civile. Io voglio ricordare però che Firenze si è dotata di un dispositivo di protezione civile negli anni passati, l'ha affinato, l'ha reso, non voglio dire perfetto perché non sarebbe il modesto. Comunque io sono orgoglioso e ho molto onore di rifinare questo premio a nome di tutti i volontari che sono tutti uguali. Grazie a tutti e viva noi! Grazie! Grazie di cuore! Riposatevi sulle vostre armi! Gridate con me! Viva Firenze! Viva Firenze! Viva Firenze! Grazie a tutti! Grazie a tutti